allora buonasera a tutti piccolo video sono sceso da buttare la mondezza e ho trovato questa una frigidrice sembra in ottimo stato zozza piena di olio però in buono stato marca sconosciuta ora voglio tagliare una lavata perché c'è proprio pure una busta l'avevo messa pure dentro una bella busta della spesa bella resistente però a me sembra buona mi sembra che non c'è problemi ora vediamo, marca sconosciuta però chi se ne frega se riuscimmo ad aggiustarla magari 10-15 euro ci rifamo vediamo un po' vediamo un po' adesso la passo in lavastoveglie almeno coperchio e contenitore dell'olio la resistenza la laverò qui nel lavandino infatti già ho preparato acqua e sapone e niente dai vediamo se è veramente rotto o se l'hanno buttata che funzionava dai allora stavo pulendo la resistenza e niente sono arrivato su questo sticker multilingue in cui c'è ok non c'è l'italiano però c'è comunque c'è il francese io sto in francia no? per cui mi dico penso dovrò fare una nuova serie e la nuova serie si chiamerà francese riccone o francese coi... perché? perché visto che io sta roba la trovo buttata no? allora è gente ricca che la butta o gente un po' un po' gente che non sa manco legge perché io c'ho il dubbio che questo qui che io basta che adesso premo il bottone di reset qui e questo funziona adesso devo ancora finire pulire tutto quanto però c'ho sta vaga sensazione vediamo 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 se qui in francia la gente è piuttosto ricca o piuttosto diciamo analfabeta ma vediamo vediamo dai allora non ho saputo resistere la tentazione anche se non è tutto ben asciutto ho installato la la resistenza c'è l'acqua perché non volevo mettere l'olio perché tanto è uguale allora che faccio? per tutto vi faccio sentire che anzi ecco qui c'è una sicurezza sentite sentite clic c'è qui una sicurezza non so se la vedete quella levetta lì metallica che prende evita che uno possa accendere l'apparecchio se non è stato immerso nell'olio fa clic clic per cui forse potrebbe essere quello che si è rotto vediamo un po' vediamo un po' attacchiamo la spina attacchiamo la spina vabbè già non salta niente però è spento accendiamo ok si accende e non salta anche non salta niente ok però il termostitore è il minimo eh proviamo a aumentare vediamo se succede qualcosa e salta la corrente proviamo oh ok si accende la spia però potrebbe essere che la resistenza è bruciata cioè che lui dice si sto alimentando però può essere che la resistenza è e no e no perché funziona e no perché sta scaldando vedete che bolle eeeh e per cui cosa e qui non è un francese no qui è un francese riccone è un francese che c'ha i soldi e che butta le cose che funzionano perché questa vabbè è piccolina sarà non so forse da 3 litri no no forse 2 litri ma questa comunque costa un 25-30 euro no adesso io che faccio visto che è tutta no cioè guardate cioè non c'ha manco un graffio manco un graffio è un prodotto a basso prezzo ok però cioè ma perché butti queste cose cioè mettile in vendita no queste le metti in vendita a 10 euro e le rivendi no cioè dai tutta nuova cioè perfetta proprio è un pozzozzo d'olio per cui un consiglio amici andate a cercare i cassonetti nelle cose prendete trovatele spesso funzionano o almeno qui in Francia pare che sia così e poi rivendetele cioè l'inflazione aumenta il costo della vita ma noi ma che ce frega noi otteniamo la roba buttata la rivendiamo e ci fanno i sordi dai dai continuiamo così e vedete che diventeremo noi i ricchi del 2030 2040 2040 2040 2040